ok i due 300 nella versione racing nella versione factory e e e e e e e e e Grazie a tutti. Grazie. 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 Allora, ti sei lavorato campione del mondo junior su una 300. Sì. Come ti sembra questa 300 della Sherco? Hai guidato la Factory. Allora, come magari in pochi sanno ho cambiato marca ma non ho mai provato un 300 Sherco fino ad oggi. C'è sempre la prima volta, ho appena finito il giro mi sono veramente divertito perché è una moto facile da usare, molto leggera, sembra quasi di avere una bicicletta, però con un motore che spinge per davvero. E ho fatto anche qualche lungo perché va veramente forte, non me l'aspettavo e è veramente una moto divertente, cavolo. Se lo dice lui.